Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Da domani lavori stradali in via Salaria, un intervento sullo spartitraffico all'altezza di via di Ponte Salario che richiederà la chiusura della strada da piazza di Priscilla a Viale Somalia. In direzione opposta Senso Unico di Marcia nel tratto di via Salaria da via Filomarino a piazza di Priscilla sarà anche in vigore il limite di velocità a 30 km orari. Le altre notizie, isola pedonale serale in via dei Fori Imperiali e in via dei Cerchi, oggi ultimo appuntamento. Ancora per questa sera dunque le due strade saranno chiuse al traffico dalle 20 a mezzanotte per lasciare spazio agli spettacoli all'aperto della rassegna dal titolo Cerchi e Fori. Saranno deviate le linee bus 51, 75, 85, 87, 117, 118 e 628. Per il momento è tutto, un saluto dalla Tg della Mobilità. Per il momento è tutto, un saluto dalla Tg della Mobilità.